Iniziato con una messa nella casa circondariale, il Natale dell'Arcivesco di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, il Vescovo ha sottolineato l'accoglienza straordinaria ricevuta dai detenuti e dalla personale della Polizia Penitenziaria che opera nella struttura di Via Magli. A tutti, ha ricordato Monsignor Santoro, ho portato l'annuncio della presenza del Signore che nasce in tutti i luoghi, un segno di speranza e di gioia. All'Arcivesco, da sempre vicino alle tematiche del lavoro, della salute e della salvaguardia del creato, abbiamo chiesto una riflessione sul futuro del siderurgico di Taranto, in questi giorni di preoccupazione per tutti i lavoratori. Poi sulla questione del siderurgico, che lo Stato possa entrare in maniera più massiccia dentro la gestione anche dell'acciaieria d'Italia, in modo da dare un effettivo cambiamento di rotta di una sostituzione progressiva del ciclo completo del carbone con altre fonti alternative. Dobbiamo proprio mettere un punto di partenza nuovo, un punto fermo nuovo e così sarà possibile invertire la rotta, una produzione che non sia produttrice di morte, ma una produzione che sia amica delle persone, della vita, della casa comune e dell'ambiente. È un momento importante, un momento positivo. Come comunità cristiana sosteniamo la speranza della gente, perché il Natale indica proprio la fiducia di Dio nella nostra umanità.